12 giugno 1942. Oggi è stato il mio compleanno. Ho compiuto 13 anni. Tra i regali che ho ricevuto ci sei tu, il mio diario. Io spero di poterti confidare tutti i miei pensieri e che mi sarai sempre di grande aiuto. 14 giugno 1942. Il giorno del mio compleanno c'erano tutti i regali sul tavolo. Ho ricevuto un mazzo di rose, delle piantine, una camicetta, un gioco, un succo di uva, un puzzle, una crema, soldi, libri e parecchi dolci. 15. A scuola, durante l'intervallo, ho offerto dei biscotti e i miei compagni mi hanno cantato la canzone Tanti auguri a te. Le mie amiche Jacqueline, Anneli e Zanne, mi hanno regalato un libro stupendo. Adesso la mia migliore amica è Jacqueline, mentre la migliore amica di Anneli si chiama Ilse. Zanne frequenta un'altra scuola. Ho ricevuto dai miei zii un puzzle, una spilla bellissima e un altro fantastico libro. 15 giugno 1942. Tra le mie compagne, Betty è brava e tranquilla. Jacqueline è la mia migliore amica. DQ è ansiosa, ma buona. E S chiacchiera troppo. E non ci stiamo simpatiche. 16. Annie è carina e allegra. J.R. è vanitosa, falsa e spiona. Ilse è carina, allegra, intelligente. Anneli è timida e ha la mente aperta. Nanni è divertente e molto intelligente. Efi è unica, aiuta tutti. Gizetta è la più bella, ma è stupida e credo che sarà bocciata. 16. Tra i maschi, Maurice è noioso ed è uno dei miei spasimanti. Sefle è spiritoso. Emi è innamorato di Gizetta, ma lei non lo vuole. Rob è bugiardo e frignone. Max è un ragazzo di campagna. Herman corre dietro tutte le ragazze. 16. Albert è molto intelligente, mentre Leo lo è di meno. Ru è piccolo e buffo. C.N. fa sempre quello che non deve fare. Jacques fa ridere tutti. Harry è carino. Werner è timido e noioso. Sam è un buono a niente. E Appy non vale una cicca. 20 giugno 1942. Voglio spiegare perché ho deciso di scrivere un diario. Io non ho un'amica. Non sono sola al mondo. Ho una famiglia e conosco molte ragazze. Ho anche molti ammiratori. Con tutti, però, parlo di cose poco importanti. Voglio una vera amica. E tu, diario, diventerai la mia amica del cuore. E ti chiamerò Kitty. Grazie a tutti.